Sperava di fare un affare, di riuscire a mettere via un bel gruzzoletto. E cosa ha fatto a pezzi con un taglierino una delle 600 copie originali dell'opera di Bankseeker Louis da Balloon, che aveva pagato 40.000 sterline. Sperava di rivenderla al doppio del prezzo, invece gli hanno detto che adesso vale solo una sterlina. Tutto accaduto dopo l'asta di alcuni giorni fa a Londra, la stessa in cui il quadro si autodistrutto, con una trovata dello stesso Banksy che aveva nascosto un tritacarte nel dipinto. E proprio per imitare quanto avvenuto durante l'asta, un anonimo che aveva acquistato per 40.000 sterline una delle 600 copie originali del dipinto, una volta a casa, con un taglierino ha sminuzzato la stampa. Voleva rivenderla al doppio di quanto l'aveva pagata. Peccato che quando ha poi chiamato la casa d'aste Sotebis, gli abbiano risposto che ora la coppia vale solo una sterlina. E l'hanno etichettato come un vandalo, visto che di coppie originali dell'opera ne esistono solo 600.